Sulle mani! Sulle mani con i pugni chiusi, così! Non fare propaganda! Ma perché? Perché c'è forse più qualche partito per il quale si stringe il pugno? No, non è proprio partito, cioè... Non ci sono più i partiti per i quali vanno a pena di stringere il pugno! E soprattutto non ci sono più le messe stagioni perché ad ottobre... Però la mamma è sempre la mamma! E certo, non è sempre la mamma! E Alessandro è sempre Alessandro! Alessandro è quello che ci ha invitati qua stasera! No! Sulle mani con i pugni chiusi, così! 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 E allora! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.